Torna a Verona dopo due anni di stop, Vinitaly, la fiera internazionale del vino e distillati, in programma dal 10 al 13 aprile di quest'anno, vedrà 4.400 operatori provenienti da 19 nazioni presenti in oltre 90.000 metri quadrati espositivi, alcune migliaia i buyer provenienti da 50 paesi che potranno degustare oltre 17.000 etichette. Come è stato per le ultime edizioni, Camera di Commercio Arezzo Siena ha organizzato in collaborazione con l'Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo una collettiva di aziende vitivinicole e aretine che saranno presenti alla manifestazione in uno stand istituzionale. Alla manifestazione saranno presenti 35 aziende e oltre 100 etichette del nostro territorio. Sì, è una missione che la Camera di Commercio insieme all'Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo ha organizzato a Verona, al Vinitaly, e darà la possibilità di partecipare ad una collettiva di aziende del nostro territorio, 12 aziende che presenteranno le loro produzioni e poi ci sarà anche un wine bar con altre 22 aziende e 64 etichette. Quindi è una partecipazione importante sulla quale crediamo anche per, dopo la pandemia, rilanciare il settore che comunque anche per quanto riguarda l'export è andato molto bene. La provincia di Arezzo ha una enorme varietà di prodotti tipici e una grande varietà di vini. Abbiamo quattro vallate e poi il centro della Chiarezzo e ognuno è differentemente classificato per tipo di vini, per tipo di produzione, per qualità di prodotti che produce. Veramente Arezzo è una piccola Italia. Abbiamo da vini molto freschi come il Pino Nero a vini molto più strutturati come quelli prodotti in Valdichiana. Quindi abbiamo un'enorme varietà e un'enorme capacità di produrre cose buone.